Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Michelle Avila, detta Missy, nasce l'8 febbraio 1968 a Los Angeles, in California, e cresce ad Arleta, nella San Fernando Valley. Sua madre si chiama Irene e ha tre fratelli di nome Ernie, Chris e Mark. Non ha trovato fonti su chi fosse suo padre e probabilmente si era allontanato dalla famiglia e non aveva più rapporti né con Irene né con i suoi figli. Almeno all'inizio di questa storia. Poi riapparirà. Un giorno, quando ha 8 anni, Missy perde il suo gatto e decide di uscire per strada e cercarlo. Suona i campanelli delle case nei dintorni per chiedere ai vicini se per caso avessero visto un gatto. Nel corso delle sue ricerche, la bambina conosce Karen Severson. Karen dà una mano a cercare il micio e lei e Missy diventano inseparabili. Missy invita spesso Karen a casa sua e Irene è felicissima che sua figlia abbia trovato una nuova amica, visto che si sono trasferiti in quel quartiere da poco. Le due iniziano alle gare sempre di più. Si frequentano tutti i giorni, giocano insieme, ascoltano musica e crescendo flirtano anche con gli stessi ragazzi. Per loro non è un problema, non sono ancora interessate ad avere a che fare con i loro coetanei. Essere apprezzate però non dispiace a nessuna delle due. A questo punto Missy e Karen iniziano anche ad andare a casa l'una dell'altra. Ma proprio durante una delle visite di Karen a casa di Missy succede qualcosa che fa storcere il naso a mamma Irene. Le due ragazze sono sedute in sala sul divano a parlare, mentre la madre di Missy è in cucina a preparare degli spuntini. Quando sta per portare la merenda, le ragazze sente chiaramente Karen vantarsi di avere due coppie di genitori. O meglio, i suoi genitori sono divorziati ed entrambi hanno incontrato altre persone con cui hanno iniziato una relazione. Irene si stranisce, insomma è strano vantarsi di avere i genitori separati, specialmente negli anni Ottanta. Non mi fa finta di niente, le ragazzine possono essere sciocche d'altronde. Fino a quando non incontra la mamma di Karen, Paula, la quale le dice che in realtà lei non è affatto divorziata. Irene a questo punto si stranisce parecchio quando viene a sapere di questa notizia. Insomma, perché una ragazzina dovrebbe mentire su un argomento del genere? Vorrebbe che i suoi genitori divorziassero? Perché? Paula spiega a Irene che sua figlia ha una forte immaginazione, spesso inventa storie, quindi Irene di nuovo lascia perdere. Karen è una ragazza più forte di Missy fisicamente, quindi quando iniziano a frequentare la scuola insieme, Karen la protegge molto, si definisce la guardia del corpo di Missy. In effetti tiene a bada i bulli della scuola e si mette sempre in mezzo se la sua amica viene derisa. Karen viene presa ugualmente in giro, ma lei non frega molto. La considerano troppo mascolina e goffa, mentre Missy viene presa di mira dalle ragazze perché è molto carina, gentile e riesce a fare amicizia molto facilmente. Cosa che chiaramente dà fastidio a molte di loro perché non possono accettare che la nuova arrivata diventi così popolare. Anche Karen comunque vorrebbe che Missy non facesse amicizia con altre persone. È molto gelosa e insomma vuole le attenzioni di Missy tutte per sé. La allontana dunque da tutte le nuove possibili amicizie e anche dai ragazzi che trovano Missy parecchio attraente. Missy è convinta che Karen faccia tutto questo per il suo bene, sono migliori amiche, quindi pensa che Karen voglia solo il meglio per lei. La realtà però è ben diversa. Karen fa tutto questo per un suo tornaconto personale e non vuole che Missy trovi altre amiche perché non vuole essere messa in secondo piano. E se Missy avesse fatto amicizia con altre ragazze avrebbe iniziato ad uscire con loro, cosa che Karen non vuole che avvenga. Le ragazze in ogni caso crescono anno dopo anno fino ad iniziare il liceo. Entrambe frequentano la San Fernando High School. Qui la storia si ripete. Karen cerca di tenere Missy legata a Sam, ormai le ragazze hanno 14 anni. Missy vuole conoscere nuove persone, nuove amiche. E in effetti riesce ad inserirsi quasi subito nella nuova scuola, Missy è molto carina, simpatica e riesce ben presto a stringere amicizia con diverse compagne. Karen quindi deve cambiare tattica. Pensa a un piano per fare in modo che Missy non riceva attenzioni positive. Mette in giro lei stessa delle brutte voci sulla ragazza. Così quando le compagne di scuola la prendono in giro, si fa avanti per dare a Missy una spalla su cui piangere e per consolarla, un comportamento a dir poco manipolatorio. In ogni caso, nonostante questa situazione a dir poco infelice, Missy riesce ugualmente a legare con i suoi compagni di classe. Si rende conto che molti ragazzi le ronzano attorno perché è attraente, quindi inizia a passare del tempo con loro. Così Karen va in giro a dire che Missy sta andando a letto con tutti i ragazzi della scuola, compresi quelli fidanzati. Un gruppo di ragazze crede al pettegolezzo messo in giro da Karen, quindi aspettano Missy fuori da scuola per picchiarla. Karen dopo il pestaggio si fa avanti, console rassicura la sua amica dicendole che non ha nulla di cui preoccuparsi. Lei non le avrebbe mai voltato le spalle, sarebbe sempre stata lì per lei. Andando avanti, le manipolazioni e le bugie di Karen non si fermano fino a quando quest'ultima conosce un ragazzo. Si innamora perdutamente di lui e si mettono insieme. Karen è felice perché ora ha la sensazione di essere notata dai ragazzi, esattamente come Missy. Missy invece in questo periodo non se la passa così bene perché ha dei seri problemi a casa. Sembra che suo padre sia riapparso nella sua vita per cercare di rialacciare i rapporti con sua madre. E questo riavvicinamento li porta a litigare molto spesso. Missy ne soffre ma spera che suo padre possa tornare a far parte della sua vita. Ben presto anche il mondo di Karen cambia drasticamente perché all'età di 15 anni rimane incinta. Il 31 gennaio del 1983 Karen mette al mondo una bambina. Avere una figlia in giovane età chiaramente si rivela per Karen molto impegnativo. Durante gli ultimi mesi di gravidanza e i primi mesi dopo la nascita della bambina Karen non frequenta la scuola e proprio per questo motivo le due iniziano ad allontanarsi. Non litigano, semplicemente si allontanano perché non si vedono più tutti i giorni a scuola. In questo periodo Missy fa amicizia con un'altra ragazza che si chiama Laura Doyle. Le due legano molto proprio nel periodo in cui Karen smette di frequentare la scuola. Così come Karen anche Laura non è popolare a scuola e tra l'altro arriva da una famiglia molto problematica in cui ci sono molti problemi di dipendenze da sostanze. Laura conosce Karen perché tutte e tre le ragazze vivono lungo la stessa strada mentre la famiglia di Karen aiuta la ragazza a prendersi cura della bambina. Karen spesso in questo periodo va a casa di Missy. La considera un rifugio perché può staccare per qualche ora dalle sue responsabilità. Ovviamente abitando lungo la stessa strada Karen si presenta a casa di Missy quando ha tempo e voglia e non l'avvisa mai. Quindi arriva un giorno in cui Karen bussa la porta di casa di Missy. Sua madre le apre e le dice che la ragazza è in camera sua. Karen quindi sale le scale e trova Missy in camera con un ragazzo. I due non stanno facendo nulla, sono seduti sul letto di Missy e stanno chiacchierando ma Karen pare abbia un crollo perché con voce tremolante dice a Missy che deve assolutamente cacciare via quel ragazzo. Missy è stranita, non capisce perché Karen si stia comportando in questo modo. Pensa sia semplicemente molto stressata perché è difficile crescere una neonata anche con l'aiuto dei genitori. Insomma Karen ha pur sempre 15 anni, è una ragazzina e tra l'altro ha rotto il fidanzamento col padre del bambino e questa cosa la fa soffrire parecchio. Tuttavia Missy dice alla sua amica che non caccerà proprio nessuno, i due si stanno rilassando insieme e stanno chiacchierando. A questo punto Karen scoppia a piangere e se ne va. Sembra parecchio risentita, infatti chiariranno solo qualche giorno dopo. Ma a questo punto Karen inizia ad essere davvero gelosa di Missy. Le due continuano ad essere amiche semplicemente perché ora Missy è davvero popolare e nessuno mette più in giro voci negative su di lei visto che Karen non frequenta più la scuola. E quindi Karen si rende conto che se avesse deciso di interrompere l'amicizia con Missy sarebbe stata estromessa dal gruppo e dal giro di amicizie scolastiche in un battito di ciglia. È però sicuro che il rapporto di amicizia tra Karen e Missy è particolare. Karen, già prima di rimanere incinta, provava delle sensazioni contrastanti, voleva bene a Missy ma in un certo senso la odiava anche perché lei era sempre al centro dell'attenzione. Era popolare, mentre Karen no. Dopo questo evento l'odio che Karen prova per Missy si amplifica ancora di più. In questo stesso periodo Missy inizia a frequentare un ragazzo di nome Randy Fernandez. Randy è il classico cattivo ragazzo, a scuola non va molto bene, se ne frega abbastanza dello studio, a lui interessa uscire di sera e fare festa. La relazione tra i due dura malapena un mese, Missy si rende conto che non si trova bene con Randy, quindi lo lascia. Lei non è interessata ad avere lo stesso stile di vita del ragazzo, insomma non le frega niente di andare alle feste e di stare fuori casa fino a tardanotte. A questo punto la bambina di Karen è cresciuta, quindi Missy prova a convincerla a tornare a scuola. Karen a questo punto vorrebbe tornare a scuola, ma è molto insicura e si vergogna. Non vuoi affrontare i suoi ex compagni di classe, ha paura di essere giudicata per aver messo al mondo una bambina, pur essendo così giovane, non è affatto pronta a tornare. Così Karen decide di iscriversi alla Mission Continuation High School, che di base è una scuola che aiuta a recuperare gli studenti in difficoltà. Nel frattempo Missy continua ad avere problemi a casa, perché suo padre continua ad essere presente. Lui e Irene, la madre di Missy, fanno vari tentativi per riallacciare i rapporti, ma continuano ad esserci molti litigi e pare che il padre di Missy stia per abbandonare di nuovo la famiglia. Così la ragazza, come atto di ribellione, decide di abbandonare la scuola per iscriversi nella stessa scuola di Karen. E le due, le due a questo punto, come ovvio che sia, tornano ad essere molto unite, anche perché Missy, in un certo senso, ha abbandonato la scuola anche per non lasciare Karen da sola. Ma in questa nuova scuola i voti di Missy e di Karen iniziano ad abbassarsi, perché entrambe iniziano a saltare le lezioni per fumare e bere con dei ragazzi. Uno dei fratelli di Missy prova anche a parlarle, le dice che sta frequentando persone problematiche, ma la ragazza non sente ragioni e litiga anche con suo fratello. In ogni caso, anche nella nuova scuola, Missy diventa molto popolare e amata tra gli studenti. I ragazzi le ronzano attorno, ci provano con lei, ma non con Karen. E questa situazione rende la ragazza molto frustrata. Insomma, cosa deve fare per farsi notare dagli altri ragazzi? A questo punto torniamo un attimo a parlare di Laura. Se ricordate, vi avevo detto che aveva iniziato a diventare molto amica di Missy, mentre Karen era a casa e doveva occuparsi della sua salute, del parto e poi della bambina. Laura inizia ad uscire con uno degli ex fidanzati di Missy, Victor Amaya. Inoltre, poco dopo che Missy rompe la relazione con Randy, Karen si fa avanti e i due si mettono insieme. A quanto pare vanno anche a vivere insieme. E poco tempo dopo, Karen rimane nuovamente incinta, questa volta di Randy. Credo che in questo caso Karen decida di abortire. Non ho trovato esplicite informazioni in merito, ma quest'altra gravidanza non viene più menzionata nelle mie fonti. Viene quindi logico pensare che Karen, anche con l'appoggio dei suoi genitori, abbia concluso che per il momento una bambina bastava e avanzava nella sua vita, vista la sua giovane età. In realtà c'è da dire che Missy è rimasta in buoni rapporti sia con Randy che con Victor. Li tratta come degli amici, ma per qualche motivo a me sconosciuto, Laura e Karen sono convinte che Missy voglia tornare insieme ai due ragazzi. Eppure in questo periodo Missy si sta vedendo con un altro ragazzo di nome Jeffrey Zabka. Missy non è arrabbiata con le sue amiche, sì è vero, si sono messe entrambe con dei suoi ex, ma non c'era stata nessuna relazione lunga, duratura o importante, quindi a Missy importa ben poco. Una sera Missy va a casa di Karen e Randy, i due hanno organizzato una festa. Quando Missy e Randy si rivedono, iniziano a chiacchierare come se nulla fosse, fino a quando Karen si alza per andare in bagno. E Randy approfitta di un momento in cui Missy si alza dal divano per tirarla verso di sé e farla sedere sulle sue gambe. È a quel punto che le dice che prova ancora dei sentimenti per lei. In questo preciso istante Karen rientra nella stanza, vede la scena e ha un altro dei suoi crolli, si mette a piangere e si infuria. Missy però cerca subito di risolvere la situazione e non se ne sta lì con le mani in mano. Prende Karen da parte e le spiega che non deve preoccuparsi, le è allontanato Randy immediatamente, non è interessata a tornare con lui ma soprattutto dice a Karen che è preoccupata per lei, perché Randy non è un bravo ragazzo. Karen però è troppo arrabbiata, non ascolta neanche ciò che le sta dicendo Missy. Chiude la discussione dicendole che non le avrebbe portato via il suo ragazzo. Missy le ribadisce che non vuole portarle via un bel niente e non è interessata a Randy, visto che l'ha mollato lei. Nel frattempo che succede? Laura viene lasciata dall'ex di Missy, Victor. Perché quest'ultimo stava impazzendo dal momento che Laura era follemente gelosa di Missy. Senza alcun motivo valido, così Victor ha messo un punto a questo comportamento tossico dicendole semplicemente tu sei fuori di testa e io non voglio vivermi una relazione del genere. Quindi a questo punto facciamo un bel epilogo. Randy ha detto chiaramente a Missy che è ancora innamorato di lei, cosa che in effetti si rivelerà reale. Randy era quasi ossessionato da Missy e si era messo con la sua amica Karen solo perché in questo modo aveva la possibilità di rivederla. Karen l'ha scoperto, quindi è convinta che Missy voglia rubarle il fidanzato, mentre Laura è stata lasciata per colpa di Missy. Il punto è che Laura non può che incolpare se stessa. Certo, non possiamo sapere come sarebbe andata la loro relazione se Laura non fosse stata così gelosa. Magari si sarebbero lasciati ugualmente. Ma Victor non l'ha lasciata perché provava ancora qualcosa per Missy. L'ha lasciata perché Laura era ossessionata e non faceva altro che parlare di Missy. In ogni caso entrambe le ragazze sono infuriate, anche se per dei motivi che non stanno né in cielo né in terra a mio parere. Le persone esterne quando vedono le ragazze assieme in realtà credono semplicemente di star vedendo tre grandi amiche. Ma chi le conosce ed è a conoscenza di quello che è capitato tra loro sa che invece Karen e Laura odiano Missy dal profondo del cuore. Non so come mai Missy non si sia allontanata da loro. Non fraintendetemi, non sto assolutamente dando la colpa a Missy lungi da me, ma sto cercando di ragionare anche con voi e di capirci qualcosa. La ragazza sa benissimo che Laura e Karen sono arrabbiate con lei. È chiaro come il sole. In un'occasione Karen e Missy hanno litigato pesantemente. Erano in un parco e più persone hanno visto Karen prendere in mano una bottiglia di birra vuota con l'intenzione di colpire Missy in testa. In realtà poi ha deciso di non colpirla con la bottiglia ma ha gettato la ragazza a terra per poi iniziare a prenderla a pugni. La rottura di Karen e Laura con Randy e Victor le ha letteralmente fatti infuriare e questa furia continua di cui non riescono a liberarsi le ha portate a pensare a una sola cosa, la vendetta. D'altronde secondo loro la colpa è di Missy. Nonostante tutto però con i giorni le due si ridimensionano, si rendono conto che in effetti l'amicizia con Missy è per loro ancora utile. La ragazza continua ad essere popolare, molto ammirata e anche loro vogliono essere come Missy, desiderano essere come lei dal profondo del cuore. Vogliono che le persone si rendano conto della loro resistenza, che inizino a notarle e a parlare con loro. Karen e Laura iniziano comunque ad organizzare la loro vendetta. Il primo passo lo fa Karen, chiede a Missy un incontro, le chiede scusa sia per la sfuriata che le ha fatto quando c'era Randy, sia per averla presa a pugni al parco. Missy ovviamente continua a pensare che Karen sia sincera. Prova a comprendere Karen e i suoi comportamenti fuori dal normale proprio per il periodo che sta vivendo. Ha avuto una bambina a 15 anni e quel ragazzo l'ha mollata, è rimasta nuovamente incinta di Randy e anche in quel caso è stata mollata. Missy crede che Karen sia sinceramente pentita e dispiaciuta e quindi accetta le sue scuse e la perdona. Il 2 ottobre del 1985 le ragazze decidono di far partire il piano per la loro vendetta. Laura verso le 15.30 passa a prendere Missy a casa sua, in macchina, e Missy dice a sua madre che hanno in programma di andare in un parco. La ragazza promette a sua mamma che se avesse fatto tardi e non sarebbe rincasata per le 8 di sera, l'avrebbe avvisata. Arrivano le 18 e Laura telefona alla mamma di Missy, Irene, per chiederle di parlare proprio con Missy. Irene a quel punto è stranita, meno di tre ore prima Laura è passata a prendere Missy. A questo punto Laura spiega a Irene che in realtà in quel parco non ci sono mai andate, lei doveva fare benzina e quindi ha lasciato Missy nel parcheggio di un altro parco, il Bramford Park, dove ha incontrato tre ragazzi appoggiati ad una Camaro Blu. Laura dice che Missy le ha spiegato che erano suoi amici, li conosceva e quindi voleva fermarsi a fare quattro chiacchiere con loro. Quindi Laura è andata a fare benzina e quando è tornata al parco per recuperare Missy non ha trovato né lei né i ragazzi della Camaro Blu. Irene la mattina dopo prova a chiamare tutti gli amici della figlia per chiedere informazioni su Missy, ma nessuno sa nulla, nessuno l'ha vista. Quindi decide di denunciare la sua scomparsa. Nel frattempo Karen è sempre stata a fianco da Irene, soprattutto durante le ricerche di Missy. Tre giorni dopo, il 5 ottobre, degli escursionisti trovano il corpo di Missy, senza vita, faccia in giù, in un ruscello nella foresta nazionale di Los Angeles, in una zona chiamata Colby Canyon, un posto famoso in cui gli adolescenti sono soliti trovarsi per stare insieme e divertirsi. In effetti quello è il parco dove Missy e Laura avevano in programma di andare il 2 ottobre, quando Missy è misteriosamente scomparsa insieme, si presume, a quei tre ragazzi con la Camaro Blu. I capelli di Missy sono stati tagliati, è stata picchiata selvaggiamente, ha molti lividi, anche sugli occhi e i suoi denti risultano scheggiati. Uno dei suoi orecchini viene trovato non molto lontano dalla scena del crimine e osservando il suo corpo senza vita la polizia capisce che chi l'ha aggredita gliel'ha strappato dal lobo dell'orecchio. Tuttavia la polizia le trova addosso altri gioielli, quindi presumono che questo omicidio non sia avvenuto a seguito di una rapina finita male. Trovano poco lontana anche la sua borsa che contiene la tessera studentesca con il suo nome completo, Michelle Avila. Ha le mani legate dietro la schiena e sul suo capo è posato un grosso tronco. A seguito dell'autopsia emerge anche la causa del decesso, sia il negamento. Inoltre il medico legale conclude che Michelle è stata uccisa il 2 ottobre tra le 17 e le 19. Non ha subito violenza ed i suoi esami tossicologici non risultano tracce di sostanze né di alcol. In realtà Karen e Laura sono sempre presenti durante le indagini e continuano ad aiutare Irene a cercare e trovare questa fantomatica camaro blu. Vanno poi ovviamente al funerale di Missy e fanno di tutto per stare molto vicine ad Irene. Dopodiché Karen si trasferisce con sua figlia a casa di Irene. Quest'ultima infatti ha detto che Karen era dir poco ossessionata dal caso di Missy tanto che ha iniziato a dormire nella sua camera. Ogni tanto ha indossato dei suoi vestiti dicendo a Irene che in questo modo riusciva a percepire la sua presenza. Inoltre ha messo insieme tutti gli indizi del caso a sua disposizione come articoli di giornale e delle foto di Missy con diversi amici ed ex fidanzati su un muro della camera per dare una mano nell'indagine. Sempre secondo quanto raccontato da Irene, Karen inizia a bere alcol molto più spesso, si reca al cimitero a trovare Missy più volte, inoltre spesso torna nella zona in cui è stato trovato il corpo senza vita dell'amica. Tuttavia Karen ha un'altra versione degli eventi, sostiene che non si è mai trasferita da Irene, semplicemente le faceva visita molto spesso e inoltre aggiunge che in realtà lei non è mai tornata nel luogo in cui hanno trovato Missy senza vita. Il fidanzato che Missy stava frequentando da pochissimo, Jeffrey Zabka, diventa ben presto il primo sospettato per la polizia, soprattutto perché Jeffrey è andato proprio il 2 ottobre nella foresta nazionale di Los Angeles per festeggiare il suo compleanno. Quindi si trovavano entrambi nella stessa foresta quando Missy è stata uccisa. Jeffrey in effetti non è un bravo ragazzo, assume diverse sostanze, tanto alcol e ama le armi da fuoco. Ha qualche anno in più di Missy, quindi comprava spesso alcolici sia per lei che per i suoi amici. Il ragazzo dice alla polizia che lui aveva parlato al telefono con Missy quel giorno e l'aveva aspettata a lungo perché avrebbero dovuto cenare assieme per il suo compleanno prima di andare alla festa, ma lei non si è mai fatta viva. Quindi spiega alla polizia che è poi andato col suo amico Frankie a festeggiare il compleanno nel loro posto preferito, che si trova proprio nella foresta nazionale di Los Angeles. Il punto è che non sono neanche riusciti a festeggiare. Jeffrey ha un alibi. Infatti, mentre l'amico Frankie guidava nella foresta, aveva fatto un incidente e la sua auto si era bloccata lungo un terrapieno. Jeffrey quindi aveva portato Frankie al pronto soccorso, i due erano rimasti lì per tutta la notte. A questo punto, la polizia non ha assolutamente sospettati e nessuna prova reale. Il caso inevitabilmente si arena e non si fanno progressi per ben tre anni. Karen nel frattempo mette in giro voci su chi potrebbe aver ucciso Missy e punta il dito proprio verso Randy. Randy era il ragazzo che stava con Missy. Missy poi l'ha lasciato e quindi Karen si è poi messa con Randy. è rimasta incinta ma poi ha abortito. Giusto per farvi capire di chi stiamo parlando perché purtroppo non ci sono le foto di questi ragazzi. Quindi Jeffrey, che stava frequentando Missy prima che morisse, si infuria e lo pesta a sangue, costringendola ad andare in ospedale. Randy afferma che durante il pestaggio riesce chiaramente a ricordare la voce di Karen che esulta dicendo uccidilo, uccidilo. Dopo questo attacco Randy lascia la città e Jeffrey viene condannato per la sua aggressione. Per anni, come già vi ho detto, la polizia sa una storia che è la versione che ha raccontato Laura. La ragazza ha fatto scendere Missy nel parcheggio dell'altro parco, l'ha vista parlare con tre ragazze appoggiate ad una camaro blu e quando è tornata non ha più trovato né ragazzi né Missy. Passano due anni e a questo punto Laura cambia versione, dice alla polizia che in effetti non ha mai lasciato Missy nel parcheggio del parco, ma nel parcheggio di una chiesa e soprattutto non esisteva nessuna camaro blu. Non ne aveva mai parlato prima perché in realtà Missy nel parcheggio di quella chiesa doveva portare a termine un affare per acquistare delle sostanze. Gli investigatori quindi seguono questa pista ovviamente, vanno a parlare con parecchi delinquenti e spacciatori, ma nessuno ha riconosciuto Missy e quando è stata ritrovata non aveva nessuna traccia di sostanze nel sangue, quindi i detective trovano questa nuova versione un pochino poco probabile. Tre anni dopo, nel luglio del 1988, una ragazza di nome Eva Chirombolo va dalla polizia e dice loro che in realtà lei era con Missy, Karen e Laura il giorno in cui Missy è stata uccisa. Eva aveva iniziato ad uscire con Laura e Karen da poco, dato che si era appena trasferita anche lei nel loro stesso quartiere. Quando Laura ha lasciato Missy davanti al parco che poi è diventata una chiesa, Eva in effetti stava guidando un'altra macchina. Con lei nel veicolo c'era anche Karen e stavano seguendo Laura. Eva quindi racconta alla polizia che lei, Missy, Laura e Karen sono andate tutte insieme nel bosco nella foresta nazionale di Los Angeles. Lì hanno iniziato a camminare lungo una stradina inoltrandosi nel bosco. Ad un certo punto Missy però era stanca di camminare ancora, quindi le ragazze si erano fermate e a questo punto Laura e Karen hanno iniziato a colpirla. Uno di loro le ha preso i capelli e l'altra le ha tagliati. Missy ha provato a scappare ma loro hanno continuato a inseguirla e a urlarle contro che era un a poco di buono perché flirtava con i loro ragazzi e ci andava a letto. Mentre Missy ormai lacrime continuava a chiedere solamente perché mi state facendo questo? Eva si rese conto che la situazione stava andando un po' troppo oltre quindi si era voltata ed era tornata di corsa in macchina. Missy scappando era finita nei pressi di un ruscello a Colby Canyon. Laura le aveva quindi chiesto se aveva voglia di entrare con lei nel torrente. Missy risponde no ma Karen da dietro la spinge facendola cadere in acqua. Laura le lega le mani dietro la schiena e poi inizia a spingere la testa di Missy sotto l'acqua. Karen ha poi lasciato Laura e Missy da sole sapendo perfettamente che Laura aveva intenzione di affogare la ragazza. Eva racconta che ha visto tornare diversi minuti dopo solo Karen e Laura da sole. Missy non era con loro. Laura toglie ogni dubbio ad Eva perché dice ad alta voce la stronza è morta e se lo meritava. Tutti insieme quindi risalgono sulle auto e se ne vanno. Poco dopo la scoperta del corpo Eva decide di trasferirsi fuori città a paura che Laura e Karen le diano la colpa. D'altro canto se avesse denunciato le due ragazze aveva paura di venire uccisa anche lei quindi ha tenuto la bocca chiusa e si è semplicemente allontanata. Gli investigatori a questo punto convocano sia Karen che Laura per interrogarle separatamente. Le due ragazze però arrivano insieme e la polizia chiede loro gentilmente di accomodarsi in una stanza in attesa dell'inizio degli interrogatori. Passa un'ora prima che la polizia chiami effettivamente le due ragazze. E mentre vengono interrogate Laura dice che la colpa è tutta di Karen. È stata lei ad uccidere Missy mentre Karen dice che la colpa è tutta di Laura. In pratica si accusano a vicenda. Entrambe le ragazze a questo punto vengono arrestate e accusate di omicidio di primo grado. Non si sono mai scusate e ne hanno dimostrato di essere pentite. Il processo inizia nel 1990 ed è a questo punto che le cose iniziano a farsi più chiare almeno sulla dinamica dell'aggressione e dell'omicidio. Emerge che entrambe hanno picchiato Missy. Quando l'hanno spinta nel ruscello in realtà Karen non se ne è affatto andata lasciando Missy da sola con Laura. Ma una di loro si è seduta sulle gambe della ragazza e l'altra sulla sua testa finché Missy non ha smesso di respirare. Poi insieme hanno afferrato un tronco d'albero lì vicino e lo hanno posizionato sulla testa di Missy. Infine se ne sono andate tornando alle macchine. Ma perché Eva ci ha messo così tanto a parlare? Cosa le ha fatto cambiare idea? La ragazza spiega che in realtà aveva perso suo fratello da poco, si era tolto la vita e solo a quel punto ha capito quanto a Irene, la mamma di Missy, fosse addolorata. Il senso di colpa la stava schiacciando, ecco perché ha deciso di confessare. Se Eva non si fosse fatta avanti probabilmente questo caso sarebbe rimasto irrisolto. Insomma Laura e Karen l'avevano fatta franca per ben tre anni. Ormai avevano abbassato la guardia, erano tranquille e non avrebbero mai pensato che Eva andasse a parlare con la polizia a distanza di così tanto tempo. Laura e Karen vengono riconosciute colpevoli di omicidio di secondo grado e condannate a 15 anni di prigione. Karen è stata per 23 anni in prigione ed è uscita nel 2011 mentre Laura nel 2012. Dopo l'arresto delle ragazze, soprattutto a seguito del processo, emerge anche la verità sulla loro amicizia. Molte persone sostengono che Karen era parecchio gelosa di Missy perché aveva più amici ed era più carina. La famiglia di Missy arriva ad affermare che Karen stava cercando di rubare letteralmente la vita a Missy. Ecco perché si è trasferita a casa sua subito dopo la sua morte e voleva prendere il suo posto. Ilaura, una volta scarcerata, non si sa molto. Karen, invece, è autrice di libri che solitamente presenta anche alle scuole superiori. Questo perché, tenetevi forte, scrive dei libri sui pericoli del bullismo. Nel 2013 ha pubblicato due libri e li ha pubblicati entrambi in concomitanza con l'anniversario della morte di Missy. E chiaramente in questi libri parla di Missy. La famiglia di Missy, quindi, nel 2005 ha fatto causa a Karen e ha vinto. Tutti i guadagni del suo secondo libro vanno direttamente alla famiglia di Missy. Proprio a seguito della pubblicazione di questi libri e della causa vinta, la California ha approvato la legge di Missy. Questa legge chiede a chiunque aiuti a pubblicare opere realizzate da criminali di contattare le famiglie delle vittime per conoscere la loro opinione in merito a tali opere. Karen ha scritto quei libri perché, a quanto dice, povera Stella, non riesce a trovare lavoro a causa della sua fedina penale. Quindi, in pratica, sta continuando a guadagnarsi da vivere tramite i comportamenti che lei stessa ha attuato contro Missy, dicendo agli studenti che incontra oggi che quei comportamenti sono sbagliati. Karen sa bene quali sono state le conseguenze dei suoi comportamenti, ma pare che non sia venuta a patti con i suoi terribili gesti. Anzi, in un'intervista dal dottor Phil, Karen si è dipinta come una vittima sostenendo che Missy le aveva voltato alle spalle e soprattutto ha sottolineato che lei si era allontanata mentre Laura teneva Missy con la testa sott'acqua. L'opinione pubblica ovviamente l'ha molto criticata. Insomma, anche se si fosse allontanata lasciando Laura uccidere Missy, ha comunque commesso un atto vile e terribile. E alcuni trovano sia addirittura peggiore questa versione rispetto a quella del processo. E Karen, con quest'altra versione, non fa nient'altro che cercare disperatamente di alleggerire le sue responsabilità. Anche se il processo che l'ha condannata ha stabilito che le cose non sono affatto andate così, tutte e due hanno ucciso Missy, non solo Laura. Karen ha aiutato materialmente nell'omicidio. L'unica che non ha fatto nulla ai danni di Missy è stata Eva. Onestamente questo caso mi ha lasciata piena di domande. Io non capisco le persone come Karen. Mi spiego meglio. Se la presenza di un'amica fa sentire una data persona in difetto perché sente che lei è sempre la migliore, non è il caso di smettere di frequentarla? Missy è sempre stata solo se stessa, mentre chiaramente Karen ha dovuto in qualche modo adattarsi. Mi sembra un atteggiamento non solo infantile, ma anche controproducente. Insomma, Karen non si sentiva bene con se stessa mentre frequentava Missy, mentre stava insieme a Missy. E ovviamente in tutto ciò Missy non ha nessuna colpa, anzi si è dimostrata molto gentile e comprensiva con Karen. Questa è la triste storia di Michelle Avila, uccisa dalle sue amiche per gelosia. Io ho finito di parlare di questa storia, di questo caso ragazzi, che a mio avviso è un caso davvero senza senso. Senza senso perché a mio avviso il movente non ha alcun senso, assolutamente. Cioè queste ragazze si sono fatte dei film mentali nella loro testa e hanno dato la colpa a Missy per un qualcosa di cui non aveva colpa. Effettivamente. Non era colpa di Missy se Randy aveva lasciato Karen, così come non era colpa di Missy se Victor aveva lasciato Laura. Non ha fatto nulla per far sì che ciò avvenisse, Missy. Quindi davvero questo caso secondo me è doloroso perché non ha proprio senso desistere, onestamente. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, fatemi sapere se conoscevate questo caso. Come al solito ci becchiamo nei commenti qui sotto, potete scrivermi quello che volete, tutto quello che volete davvero. Io vi leggo sempre. Quindi nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facete nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!